ciao e benvenuto a camioc si si proprio così è twitch questa è una roba trash ciao la fate claudio queste luci la fate claudio se non ti piacciono te la prendi con lui allora ragazzi benvenuti a questa nuova puntata del senso del nerd ho chiamato cami perché cami lavora e gioca a un mondo cioè partecipa a questo mondo che non conosco molto bene e ho sempre un come si può dire un po di snegnato però non c'ho mai non l'ho mai esperienziato più di tanto perché non riesco a entrarci dentro che è il mondo dei giochi di ruolo ok non solo i giochi giochi in generale giochi di carte te io magic magic però con veramente con rispetto perché ci sa giocare perché no perché io ci giocavo con i miei fratelli così giusto per per piale da mio fratello la verità è questa solo io volevo solo essere voluta bene però ecco non dall'applicazione tendenzialmente perdo hai un mazzo tuo predefinito cioè che ti piace poi il mazzo goblin mazza artefatti pure mazzo a caso mazzo a caso però a me piace no non voglio dire perché io so che quando no non tipo le cose e poi dopo la gente in chat massimo il ciruriamo vai tranquilla no perché so che a me piacciono ok ok vabbè il blu è un po il simbolo di magic sono l'incantesimo esatto perché io da stregona da mezza elfa stregona per me tutto ciò che è magia è ok tutto il resto non mi interessa fondamentalmente ok però tipo sapevo che tra i giocatori di magic però tu non mi sei giocatore di magic così sono collezionista tu sei solo collezionista quindi forse parlo con loro possiamo escluderti certo volentieri dicevo da quello che so ci sono delle persone che un po odiano tipo quelli che si piano i mazzi blu i mazzi bianchi che fanno le combo perché dicono che sono un po più un po sgravati e quindi se ti pilista combo vuoi vincere facile posso dire sì cioè perché non dovrei voler vincere facile il gioco te lo permette sto rispettando le regole sia che cazzo volete pigliatevelo pure voi stai facendo tutto te quindi magic è appunto famiglia vi prego accettatemi col mio mazzo blu nonostante lo odiate però cosa c'è stato poi nella tua infanzia nella tua adolescenza che ti ha formato effettivamente anche come ragazza allora secondo me c'è stata una cosa ancor prima di magic perché io l'ho detto prima o due fratelli maschi o cario grande o più piccolo e quello grande diciamo quello che secondo me mi ha più influenzato nella cultura nera del lui però è della scuola warhammer dipinge insomma quella scuola di vero nerd vero nerd metallaro ok pure tutto ok quanti anni ha è dell'88 quindi 31 perché io comunque sono del 90 non ne ho ancora fatti 30 quindi ne avrà 31 e salutiamo comunque il fratello si lo salutiamo e quindi lui mi ha un po influenzato e prima ancora di magic io giocavo con lui a doom sul pc il primo secondo me non era il primo forse può essere il terzo può essere io se vuoi ti dico cosa facevo quando aprivo le porte con la barra ok questo era quello che mi faceva però bello che ti faceva partecipare le splatterate le facevano wim certo perché io ero troppo piccola considera avrò avuto 7 anni cioè non avevo però lui mi diceva guarda tu premi la barra quando ti dico via tu apri bellissimo e quindi doom è stato il mio battesimo da doom poi c'è stato magic nel frattempo non so se vale nel mondo nerd ma c'è stata una grande collezione di carte telefoniche no c'è bisogna assolutamente citare ok no è importante perché negli anni nostri le carte telefoniche erano una perché tu hai sempre questo sorriso che non capisco se stai pensando ma guarda sta cretina no ma esso della tua stessa età come faccio a dire una roba del genere no è che sono convinto rido perché di sicuro loro non sanno nemmeno che cazzo sono le schede molti di loro le schede telefoniche erano in sostituzione al gettone per fare la chiamata alla cabina cami ma loro c'hanno 18 anni io non ci credo che no ragazzi adesso per favore la chat risponda voi non potete non sapere cosa sono le carte telefoniche ma anche cioè è come dire non so chi era garibaldi perché non ero viva no ci sono delle cose che mi hanno sapute vabbè ok è un paragone un po' cortico infatti come ti permetti sappiamo benissimo cosa sono le carte telefoniche eh toratutti ma vabbè comunque devi sapere che ho un amico che ha una delle tre collezioni di carte telefoniche più completa d'italia perché non so se lo sai ma il difficile non è collezionare le carte telefoniche normali ma i prototipi perché ci sono stati vari prototipi fatti dalla SIP ok e sono difficilissime la più rara è quella con la torre di Pisa pensa te no non ho assolutamente questa profondità nella collezione no te lo dicevo così per un passante io sapevo solo che devo guardare la tiratura bravissima la tiratura era ciò che ovviamente mio fratello aveva questi grandi albumoni io ero troppo contenta quando gli trovavo una carta telefonica gliela portavo ovviamente tipo tiratura 100.000 si faceva il bidet con la mia carta però per me è stato anche un modo di partecipare a questa unione di fratellanza che poi a un certo punto si è interrotta questo però non è forse la sede per dire però nell'adolescenza di mio fratello grande poi abbiamo avuto un momento di attrito ah ok perché i nostri caratteri sono sviluppati in maniera però poi ci siamo ritrovati con Dungeons & Dragons ma forse stiamo correndo troppo forse a questo punto ci arriveremo vedite vedite e poi cos'è dunque quindi abbiamo detto Doom Magic si poi secondo me c'è stato la grande epoca Game Boy vabbè per tutti ok cosa giocavi? Pokémon oppure? Pokémon e Super Mario Land era quello con la principessa Daisy? si si ok quello ci giocavo molto ovviamente mio fratello era il pro io quando arrivavo al mostro finale glielo dava lui e lui lo faceva Super Mario Land e il mostro finale credo forse è Tatanka se non erro non mi ricordo però so che per me era molto complesso e soprattutto ora ho dei ricordi confusi ma mi ricordo che il salvataggio non era tipo che morivi e ripartivi dal mostro cioè dovevi partire da tanto più indietro quindi se morivi era un bel cazzo un bel cazzo vero e quindi io facevo fare a lui perché non sapevo come continuare però diciamo ho dei bei ricordi anche del Game Boy ovviamente Pokémon sempre poi c'è stato Spyro ah ok Spyro the Dragon quindi ti eri Team Spyro invece di Team Crash anche Crash ok però più Spyro diciamo eh oddio adesso che me l'hai detto non lo so ora perché Burdegami ha molto cioè ha fatto tanto parte della mia vita non lo so giocavamo entrambi dai via però sai cosa in Crash c'era anche che potevi gareggiare con loro ovviamente inutile dire che non c'era nessun tipo di gara con mio fratello però giunti a questo punto avrete capito che io giocavo per giocare non certo per vincere che è la cosa più bella cosa che si è tramandata perché io anche adesso con i giochi da tavolo così cioè gioco per giocare non sono Claudio Di Viaggio io non sono Claudio Di Viaggio che deve giocare per vincere io non c'ho mai giocato con Claudio lo sai perché io odio la competizione più di ogni altra cosa al mondo non c'ho mai giocato e meno male me l'hai detto non ci giocherò mai no 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 è molto bello giocare con Claudio e soprattutto Claudio posso dire è la persona più brava che io conosca a spiegare i giochi e non è poco perché io so giocare a tanti giochi li so spiegare però lui te li spiega partendo dal punto giusto passando per i punti giusti ogni tanto inizio a spiegare e poi dico no beh scusami torniamo indietro parto da un altro punto e invece lui è molto lineare molto bravo poi ha questa voce da narratore che rende anche Monopoli un gioco estremamente intrigante cosa che tutti sappiamo non essere però ti posso dire dopo tutti questi discorsi forse comunque ti direi Spyro perché Spyro mi ha una storia che mi sento di aver vissuto Crash invece era più la partita del momento era più l'insulto ti metto la bomba non sei più mio fratello finito invece questa è la lore della sì questa è la mia lore di Crash invece Spyro dai è stato il primo gioco dove mi sono sentita che potevo fare di più che aprire le porte con la barra e potevo correre potevo pigliare gemme potevo platinare un gioco cioè insomma mi sento di dire che è stata la mia formazione in realtà ci hai preso perché Crash era veramente stronzo soprattutto il primo gioco e Spyro era stato concepito per un pubblico di più piccolini per cercare di dare una versione coinvolgerli eh coinvolgerli di più c'erano anche lì tanti collezionabili però era più di manica larga ecco diciamo Spyro purtroppo non abbiamo ancora un capitolo 4 di Spyro si vocifera che forse c'è nell'aria forse sì forse no come il quinto capitolo di Crash vedremo 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 comunque io l'ho comprata adesso hanno fatto la reddizione giusto? sì sì la Reina 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 Trilogy come cazzo si chiama posso dire l'ho comprata l'ho comprata senza battere ciglio ne ho veramente usufruito no ma non ci interessa l'hai presa e basta l'ho presa ho fatto due o tre cose un po' me le ricordavo perché un po' l'hanno cambiato ma un po' sembra la stessa roba e comunque mi sono accorta che sono passati tanti anni ma comunque io ancora non so hai presente tutte quelle sfide che erano un po' o subacquee o aeree dovevi passare negli anelli quella è ancora una cosa su cui ho grandi grandi lacune le platform e i livelli acquatici stanno un po' a tutti sul cazzo no io li odio io li odio come ho odiato volare sulla scopa in Hogwarts Legacy ma questo ci arriveremo io non ci sono nemmeno arrivata alla scopa l'ho droppato prima perché non mi è piaciuto per niente poi ne parliamo se vuoi no perché giunti a questo punto comunque mi subentra Harry Potter come lore ok come film come libri e posso dire anche come playstation sì perché il primo Harry Potter a cui ho giocato era Harry Potter se non sbaglio 2 per la playstation 2 in realtà nasce sulla 1 con la pietra filosofale ok no forse quello non so io sono ho giocato a quello per come prima cosa ed era molto divertente tutto pieno di segreti era interessante io guarda ho questo ricordo che eravamo talmente infoiati tutti e tre perché nel frattempo quello piccolo è cresciuto quindi anche lui si è voluto unire a questo team rocket di giocatori però la playstation era una i nostri genitori erano abbastanza severi quindi sì giochi ma tempo limitato e quindi avevamo proprio la sveglia quindi un'ora a testa uno faceva partire il timer scoccata l'ora doveva passare il joystick e quindi ho sempre cioè mi è sempre rimasto qua perché avrei voluto giocare molto di più ma non potevo perché ci susseguivamo in quest'ordine quindi subentra tutta la loro Harry Potter che ovviamente ha un peso sia di film che di libri che di gioco a questo punto quanti anni abbiamo? secondo me io almeno una decina? ah di più? eh beh sì dai guarda se io stavo a dire Harry Potter al cinema il primo io andavo alle medie quindi avevo almeno 12 anni ok minchia 2001 primo film 11 anni ok ho deciso spaccato top quindi poi c'è stata la lora di Harry Potter poi che cosa è subentrato ah no aspetta però io non ci ho detto io non ci ho detto due cose importanti devo quindi fare un passo indietro vedi come nei giochi non so spiegare a un certo punto dico scusa ripartiamo sono dimenticata una cosa si può fare anche così senza problemi no io mi sono dimenticata una fonte che per me è stata importantissima e sono contenta di avere oggi la mia community qua per poter finalmente fare questa domanda perché mi sono sentita allora ragazzi e ragazze io mi sono sentita sola per tanti anni perché da piccola io vedevo questo cartone che tra parentesi mi ha creato dei grandi traumi ma poi ne parliamo che non ha visto nessuno e non sono mai riuscita a confrontarmi con nessuno circa questo cartone e per un certo periodo di tempo io ho pensato di essere me lo immaginato che questo cartone non esistesse invece adesso da adulta ho cercato e questo cartone esiste e questo cartone è Little Nemo come nessuno l'ha mai visto? io ti giuro ho conosciuto quest'anno la prima persona che alla mia domanda qualcuno ha mai visto il piccolo Nemo e principe dei sogni? no lo sai che è tra l'altro il cartone animato tratto dal fumetto dal fumetto di Winsor McKay che tra l'altro è uno dei padri fondatori dell'animazione tutta ecco quindi per anni io mi sono sentita sola diciamo la verità mi sono sentita sola però il piccolo Nemo è stato il primo cartone che non so perché ma mi ha veramente stregato era anche abbastanza inquietante per i bambini posso dire a me quella magma nero che ti intrappolava negli inquieti per me è stato un trauma e per anni io mezzo che ci ho avuto paura eccolo qua però c'era anche in italiano no? si 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 e se non sbaglio la principessa si chiama Camilla ah questo non me lo ricordo sono sincero me si però secondo me era un cartone per i bambini abbastanza traumatizzante sai che in Giappone spesso fanno robe un po' per tutti si se ne sbattono il cazzo allegramente del lo sto scoprendo del target quindi a volte si una roba la concepiscono per bambini ma inseriscono delle botte improvvise di di maturità di violenza perché cazzo fai comunque si 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 comunque quello quindi quello in realtà è stato è stato il primo il primo seguito da un altro film che per me è stato segnante le avventure del barone di Munchausen ah certo si di Terry Gilliam quello quelli sono proprio stati i miei due punti fissi da piccola sai che sono di bambina a cui chiedi cosa ti metto io volevo solo vedere barone di Munchausen ma nello specifico io volevo la scena che io chiamavo la scena della gondola che in realtà era Uma Thurman che usciva dalla conchiglia c'è questo pezzo bellissimo di questa Uma Thurman giovanissima con questo velo bianco un po' nuda un po' così che mi esce come la vene dei botticelli da questa conchiglia e poi c'è tutto il momento della danza di lei e chi era sembra non mi ricordo c'ho un vuoto adesso però quello è stato un altro film assolutamente non per bambini e classici Disney nulla? allora mi piacevano anche i classici Disney però io non sono mai stata tanto una bambina da cartoni animati cioè li guardavo però rispetto a mio fratello piccolo che era completamente drogato invasato cioè lui gli attaccavi un cartone e usciva proprio dal mondo reale io li guardavo mi piaceva il mio perfetto era Sirenetta lo guardavo con grande piacere però se mi avessi dovuto chiedere preferisci vedere però di Munchausen o il Raleone ti avrei sicuramente risposto certo io però mi rendo conto di avere dei grossi problemi che mi porto dietro tuttora quindi adesso dobbiamo rifare un salto in avanti quindi classici Disney abbiamo detto no no non è che no però meglio meglio altro ecco con delle perché poi c'erano alcuni che proprio non mi piacevano quindi non non so tipo gli rissogatti a me mi ha sempre sbombalato i coglioni mi dispiace scusatemi finalmente no io l'ho sempre odiato finalmente qualcuno che dice le cose come stanno cioè caricai 101 a fatica non è il mio preferito allora proprio è un non è il mio preferito perché non sono mai stata io non ho neanche mai avuto dei cani degli animali ho avuto una tartaruga e l'ho uccisa io quindi secondo me strano per sbaglio ah per sbaglio ero piccola e quindi non non lo so forse pixar ti piaceva? no pixar se vuol dire ovo sodo eh? si certo allora quello non lo so non voglio dire ma almeno quella come informazione non lo so Toy Story sì Toy Story però grosse lacune sulla pixar io che non ho mai più cioè il mio rapporto si è non è non è mai sbocciato no no però conosco tipo Toy Story Cars proprio Cars vabbè poi Cars ehm Nemo cerca di Nemo bello ecco quello forse mi è piaciuto molto Monsters & Co come ha fatto un piacetti? non l'hai visto? come hai fatto? no qui bisogna nella tua checklist di cui mi parlavi prima bisogna lo so con i cartoni faccio fatica quindi non l'ho visto forse anche gli incredibili può essere sì sì no brutto brutto non mi attira non mi attira non l'ho visto quindi che ne so può essere uno spettacolo però non lo so Rattatouille? Rattatouille bello Rattatouille bello Rattatouille bello Rattatouille bello beh posso dire un applauso alla Pixar avete fatto dei capolavori perché a Bugs Life credo l'avrò visto milioni di volte sai cosa mi piaceva anche adesso me l'hai detto non so perché mi è venuto in mente James e la pesca gigante io buono di Serik il regista di Rack Baby for Christmas bellissimo quella scena di lui dove delle zie cattive che gli fanno credere che gli avevano lasciato il pesce poi lui apre quel forno e c'è quella lisca con la testa ti giuro mi ha devastato per anni lo sai che se compri il blu-ray e in alcune scene si vedono i fili che tirano sui personaggi così se l'hanno non l'hanno post prodotte e poi quando lui arrivava e si mangiava per la prima volta la pesca perché lui non mangiava niente di così buono e quando addenta quella pesca bellissimo ma tu sai cosa mi è venuto in mente The Page Master Page Master lo sapevo Vabbè Page Master amato amato totale bellissimo quando lui entrava nei libri quello era proprio quasi quasi tutto un cartone perché il film erano veramente i primi dieci minuti lui si perdeva in sta biblioteca e poi entrava in Dr. Jackie Mr. Hyde che era il libro d'orrore poi c'era quello dell'avventura dei pirati e c'erano quattro forse forse di più forse qualcosina di più non mi ricordo sai è che non li stampano mai cioè non so dove cazzo si possa vedere Page Master non so che problemi ci sono secondo me sui torrenti erano tre libri minchia che erano bellissimi uno era bruttissimo chi ha cazzato roger rabbit allora chi ha cazzato roger rabbit ce l'ho però si vede che mio fratello era traumatizzato dalla salamoia eh sì e quindi alla fine io pure non lo volevo vedere perché lui c'era paura della salamoia quindi mi stai dicendo che alla fine non l'hai mai visto l'ho visto te lo giuro l'ho visto ok però non ti saprei fare un assento dai c'è Bugs Bunny che chiacchia con Topolino e Topolino penso nella sua intere esistenza non l'ha mai detto ha detto eh rischia di ammazzarsi Topolino che dice la parola ammazzarsi eh lo so eh no e soprattutto Topolino ragazzi attenzione è il capo di Bugs Bunny perché a un certo punto Topolino fa secondo me devi dargli perché la ruota di scorta no? c'è il gioco scorta che non viene tradotto bene in italiano perché eh c'è la parola di scorta si può utilizzare per tante cose è la ruota di scorta e alla fine Bugs dice va bene sei tu il capo e glielo dà figuratemi un po' ragazzi è importante questo vabbè per cazzate mie queste no tu fai bene però io io ti si è come se ti sentissi parlare una lingua che non conosco però la trovo molto affascinante è come l'italiano sentito da un americano lo trova musicale ma non lo capisce questo è buono cosa vuoi capiscano loro comunque Giganti di Ferro l'avevi visto? no ecco quello secondo me ti piacerebbe molto ma hai cartone? eh si poi c'è si è un cartone sei un cartone cioè perché ora mi hai detto che stasera cartone sono sconfitto su tutta la linea perché come faccio a venderti un cartone? no 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 ma io non è che dico cartone brutto però voglio capire perché Giganti non mi si era un titolo che poteva essere plausibile anche per un film poi mi hanno spiegato che in realtà i film cioè pure i cartoni si chiamano film d'animazione quindi pure quelli sono film si che per me se lo chiami film è confondente perché io mi immagino gli attori veri e invece poi vedo le immagini e questo per me è strano eh sto sentendo male no è una allora l'animazione è una tecnica cioè è girare un film invece che lo girare con l'attore e lo giri con con l'animazione che può essere di vario tipo 2D, 3D, la plastilina James e la pesca gigante è fatto con la puppet animation con la stop motion si anche Nightmare Before Christmas bravo e infatti lo stesso regista eh infatti bello oppure anche quello si lo so stavo veramente rischiando grosso no ma va va ma va questa è la mia community io mi sento di potermi aprire con voi certo certo è un video è una live sfogo questa cosa esatto che non volevo fare adesso parlo io adesso parlo io è successo questa cosa sai dei titoli dei video scuse esatto e poi non so dove eravamo arrivati in realtà poi abbiamo preso una piega no perché sono tornata indietro nel tempo poi cosa è successo fammi pensare Harry Potter in realtà poi io secondo me ho avuto un momento di rifiuto cioè tipo da c'è sempre quello eh c'è sempre? sì sì ogni tanto c'è credo che dalle medie cioè diciamo tutto il periodo delle superiori io proprio mi sono fatta i cazzi miei cioè forse volevo volevo essere normale tipo le robe tipo Paso Adelante quelle robe della nostra generazione quei telefilm un po' allora Paso Adelante sì però non è arrivato un po' tardi secondo me per noi Paso Adelante forse hai School Music no forse è tardi eravamo come Kimba Gucchi perchè io come riferimenti uso quelli di mia moglie che è del 94 eh no 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 quindi lei ha preso quelli eh no 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 noi avevamo che cazzo avevamo? noi avevamo Dos On Creek io poi su tutto Masterpiece o sì avevamo noi o sì eravamo già Grandicelli oh sì o sì noi ma come Masterpiece Dos On Creek sì la prima puntata c'è lei di... Dos On Creek è un capolavoro io ho appena rifatto Te la ricordi la prima puntata di Dawson Creek? Poi ho fatto un intero spettacolo teatrale sulla prima puntata di Dawson Creek Veramente non hai niente da insegnarmi su questo tema Come hai fatto a difendere la prima puntata? Sei c'è un coraggio? No, no, non l'abbiamo difesa Abbiamo fatto la filologia romanza della prima puntata Raccontate lo spettacolo allora, per favore No, che rire Eh no, ma è finito Questo è il vecchio spettacolo Quello nuovo lo sto scrivendo Ah, prima puntata di Chen è nuovo? No, no, no Non c'è finito Però nel vecchio spettacolo facevamo un pezzo Dove era l'esegesi della prima puntata di Dawson Creek Le risate Perché ovviamente i dialoghi sono invecchiati malissimo Malissimo Non hanno nessun senso Sono come... Però sono... Eh, fanno il giro Cioè fanno il giro e diventano immensi E poi ti posso dire una cosa È vero per tante cose assolutamente inascoltabili al giorno d'oggi Però io ti assicuro ho fatto il rewatch adesso In realtà Dawson Creek per tante cose era 300 anni luce più avanti di tante Cioè l'omosessualità era già trattata Sì, vero, vero Per quello che era l'epoca Certo, sì, sì Eh, lo sdoganare anche la sessualità precoce Era assolutamente sdoganare Cioè, secondo me ci sono state alcune cose che sono state affrontate in maniera molto lungimirante Rispetto ad altre serie Tipo One Thrill One Thrill è invecchiato veramente male Ah, lo sai che non ho mai visto One Thrill? Eh, no, quello per carità Un bacio a Chad Michael Murray Sei comunque il mio sole e rimarrai per me secondo solo Leonardo DiCaprio Però veramente brutto brutto in culo Hanno citato Buffy Ecco, Buffy, grande serie Buffy, grande serie Diciamo dei grossi buchi di trama Perché Buffy la guardavo a spizziche e bocconi, capito? Quindi non ho quel conti... Io di Dawson Creek posso dirti tutte le otto stagioni Posso dirti in ogni stagione che stagione è Cioè, so tutto di Dawson Creek Bellissimo Perché poi l'ho ripetuta Una persona così fissata No Scraps ti piaceva? Allora, qua apriamo un grande capitolo Io non sopporto le serie che io chiamo riderine Però non c'erano le rissate sotto Non c'erano le rissate sotto Però è una serie riderina Eh, è una... Allora, loro si paraculo dicendo che è un telefilm Perché non c'era la solita inquadratura fissa Con i set, ecc Però è una sitcom, sì Eh, io non ce la faccio Beh, infatti io, guarda Questa è la mia community Lo posso dire Io Friends lo odio Letteralmente Lo sai che l'ho riguardato di recente Quando l'hanno rimesso Non mi ricordo dove E... Anch'io ammetto Faccio fatica Sì, ho fatto fatica Fatico, fatico Come tutte le serie rideri Con le rissate sotto Per me sono inaffrontabili Ed è il motivo per cui Friends Cioè, guarda C'è... C'è un mio amico qua Che voi non vedete Che secondo me si sta Squagliando Sentendo le mie parole Possiamo farlo entrare E' un grande fan di Friends No, anch'io non faccio fatica Tipo Big Man Tiori Tutte le ultime Non ce la faccio Non... Io se devo ridere Cioè, io... A me non fa ridere Non voglio ridere Non... Non sono qui per ridere Quindi no Vabbè, sì Però se... Cioè, qualche volta Vedi un film Una serie per ridere Effettivamente No Ah no? Ok Cioè, ci sto pensando Dimmi una serie Per ridere Cioè, tipo Se metti una pallottola spuntata Come fai? Non ride? È impossibile No, cammi Non ti capo Con la comicità demenziale lì? Mi fa orrore Orrore Una pallottola spuntata Per me è il male No, se io potrei Su Pixar posso Posso andare sopra Su Disney Guarda, posso andare sopra Ma sulla pallottola spuntata Come fai? Oh, ragazzi Ce la faccio Cioè, lui che cade Dal millesimo piano Si salva sul tendone Atterra sul marciapiede E poi arriva una tigre E lo sbrana Ma com'è possibile, cammi? Ma non è possibile Bocco Ma perché? No, non... Perché non mi fa ridere Non mi fa ridere Lo trovo demenziale Non... Non lo guarda Vi invidio Posso dire Vi invidio Vorrei essere voi Ma non... A me piace La comicità lì Non mi fa ridere Guarda la comicità che ti piace Ce la sono curioso Cioè, la comicità che... Cioè, che ridia Matematicamente Quando vedi quella cosa Non c'è in mente nulla Cioè, tipo... Fammi un po' di esempi Di cosa far ridere No, no, prendo varie branche Della comicità Tipo, lo stand-up Stand-up dipende dalla persona Ok Stand-up se è fatto da persone Che mi fanno ridere Mi fa molto ridere Tipo? Lui si che mi fa molto ridere Ok, ok Poi, intendiamoci... Cosa intendo per molto ridere Io intendo questo Non è Ma è difficilissimo Però dentro sto ridendo un botto Ok, comicità surreale Tipo, stile Lundini, Frassica Mi fa ridere Sempre quella risata interna E la risata di gusto? La risata di gusto Su un prodotto audiovisivo Allora, tipo, se vado a teatro A vedere la stand-up Rido di gusto Perché secondo me... C'è la partecipazione Ok Sì Se sono a casa sul divano Oddio, allora Sai forse uno spettacolo Che mi ha fatto molto ridere? È stato quello di Edoardo Ferrario Che ha accesso un et... Cosa? No, io non so Sono... Io vengo da un altro mondo Dove non posso dire niente No, qui si vuole di tutto Ok E lì mi ha fatto molto ridere Ok Jackass Quella roba estrema Loro che si schiacciano il pisello No Quello proprio maschio tossico Levati Non mi piace Non mi piace tanto Non mi piace per niente Purtroppo non mi piace neanche tanto The Office Perché è un po' Cioè, ne comprendo la potenza Però non rido Non rido Cioè, lo guardo e dico Ah, ok Però non... Però capisco che è un grosso limite mio Quindi Stivo Che prende una massa di esche Se le mette dentro il costume E si fa fare un pompino Da un pesce balena Cioè, da uno squalo balena Credimi, forse piango Cioè, non è che non rido Forse piango No, anche io sono rimasto Particolarmente scioccato Da quella cosa Bobo Erna Mi ha fatto ridere Però sempre quella risata interna Cioè, no Che mi sono sganasciata Satira politica Tipo Aldo Giovanni e Giacomo Invece satira di costume Allora Ecco, bravo Hai detto un esempio giusto Tel Kiel Telun Di Aldo Giovanni e Giacomo All'epoca mi fece tagliare Cioè, lo sketch Ero piccola Però, secondo me Posso dire No, no, sono becchiato molto bene Te lo posso dire Lo sketch dei poliziotti E della Subaru Baracca Io penso di non aver mai riso così tanto Cioè, quello è stato Era veramente uno spettacolo pazzesco Ok No, io sono molto Confesso Sono molto più Aperto con la comicità Mi garba tutto Basta che mi faccia ridere E non sono Diciamo che io sono Mi piace la comicità surreale tanto L'unica comicità Su cui sono rimasto in difficoltà Con i miei amici Perché io ridevo come un pazzo E loro rimanevano freddati Perché Frassica non gli ha mai fatto ridere Frassica parla normalmente Semplicemente scombina le frasi Io muoio, rido Io non Non sono sullo suo stesso registro Cioè, siamo in due dimensioni diverse No, vabbè Io sono uno che ride Veramente un po' per tutto Basta che faccia ridere In quella branca di comicità Mi garba tutto Sa tirare di ostume Sa tirare politica Sa tu Eh, no A me dispiace Perché ci sono tante serie Che mi sarei voluto a vedere Però Visto che so Che fanno ridere Non Poi anzi Io sono ancora peggio Proprio Io tolgo tutte quelle che fanno ridere E in più Anche quelle proprio comedi Pure che magari non sono da ridere Però è proprio una storia Comedi Normale Don't care Cioè, non mi interessa Allora parliamo di cinema Cos'è che ti piace di cinema? Ora sono curioso Magari i tuoi generi preferiti Allora Generi preferiti Vabbè Forse ti direi Tutti i film storici Davvero? Tipo I costume I costume Sì Quelli in costume Forse sono i miei film preferiti Quindi anche i sandaloni Tipo Benar Beh no Proprio le smarronate di cazzo No Le smarronate di cazzo Cioè Diciamo Dai Comunque Hollywoodiani Pop Dai Insomma Però Tutto ciò che è in costume storico Sono i primi Ecco Se io devo aprire una piattaforma streaming I primi che c'è Sono quelli Sono quelli in costume Oppure Anche quelli storici Cioè non so se si considera in costume Il film sulla seconda guerra mondiale Anche quello Anche se è più contemporaneo Comunque tutto ciò che è una loro storica Sono Il mia first choice Ma è venuto in mente Non so perché Mentre parlavi Il discorso del re Sì Allora quello È storico Ni Cioè nel senso La storicità fa quasi più da sfondo Poi alla fine è molto incentrato su di lui Sulle sue difficoltà Ok Quello Mi manca un po' di Sto cercando di capire Che tipologia Proprio il film storico Perché a me piacciono i film storici Che affrontano una storia personale E che mi raccontano una storia Attraverso quella storia personale Capito Quindi stavo cercando Invece a te piace proprio la storia Tipo Maria Antonietta Quindi la storia di lei Ma Maria Antonietta Io me lo ricordo anche un po' Surreale No? C'erano delle cosette Sì Che era quella di Kister Dall Sì Sì No Quello non è Non è stato tra i miei Cazzo ma sai che io C'ho l'Alzheimer Vabbè facciamo Cazzo ne so Barry Lyndon Oppure No 300 Ma che cazzo Il film storico è 300 Ragazzi Tutto falso Vabbè dai Però figo dai A me è piaciuto Dai è figo È stato A me è piaciuto A me non molto Devo dire la verità Elizabeth Bravissima Fì te è carbato anche Gladiatore 100% 100% 100% Ti carbano i film Con i discorsoni Io sono massimo Decimo Meridio Oppure Quello è Sparta Sparta Pam Eh sì No però uno dei miei film preferiti È Elisabeth L'hanno citato No Troy non ti può essere piaciuto Però No però cosa è una merda Troy Mi ci è un Brad Pitt Che a me della trama Non mi interessa più Ho capito ma quello è il Brad Pitt Quello blocco di tuvo Quello divento di passioni Ma Quello che stava sempre conci Bravo No ma stacci Guarda io piglio tutto Vieni qua Brad Non la spettaccia Così faceva con la show line Sì 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 E bevi E c'ha bevi No lo preferisco vecchio E saggio E poi a te lo tu E io lo più giovane The post Avvocati Divorzisti Che l'hanno temprato No 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 lo vuoi invece Birgult E Io voglio Brad Pitt Invento di passioni Tra l'altro capolavoro Intervista col vampiro Invento di passioni No invento di passioni Ragazzi è un capolavoro di film Ho capito Ho capito Ecco Però Elisabeth Bellissimo Uno dei miei film preferiti L'ho visto 100 Vi presento Joe Black No Ecco quello è stato un brutto film Ah meno male No perché il manichino E vola tre volte in aria Davanti il bar No 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 Vi presento Joe Black Siamo è veramente Un film noiosissimo Ok Io sono la morte Prego entri in casa Signore No una sola senza C'è lui buono però Braveheart Vabbè Di cosa stiamo parlando Stupendo Mel Gibson Sì Braveheart Non si può veramente dire niente No è un bel film Poi io ho tutto Il mio kink Sulla Scozia Che è Davvero? Mamma mia Lascia stare Quindi anche Sean Connery Ti piaceva? No perché io Super scozzese Lo so No io sulla Scozia No sugli scozzesi Ok ok Sulla Scozia Siamo di Garbavargonnellino Di Garba Però io c'ho un altro C'ho la Scozia Però a me piace Purtroppo mi piacciono i giovani Ovviamente maggiorenni Però lo sai Lo sai che Sean Coiner Il più bello Oggi Che dà Da giovani A me i vecchi Non mi piacciono Io massimo 30 anni Non c'entra nulla La vostra età ragazzi Spammate in chat Non è un curriculum Cioè non dovete No no Potete pure mandare candidature Poi li deco Mandatemi in privato Il mio nome è 339 No E Di Caprio raga Di che cosa stiamo parlando Di Caprio è Il mio dio Cioè nessuno Però Di Caprio Ora inizia a vicino età Ecco lui è l'unico Vecchio Iovacucco Ok ok Cioè solo per Come dire Il ricordo Di quello che è stato Di quello che c'è stato Tra noi Cioè niente Solo per quel ricordo Io lo prendo anche adesso Con la panza Sai che più Invece a me l'attore Più brutto è Meglio è A me piacciono Quelli proprio brutti A te piacciono I visi cinematografici Eh sì Molto caratteristico Tipo Adam Driver Guarda te lo stavo per dire Io Ti stavo per dire Tu sei uno di quelli Che dice per me Adam Driver No lo dico Non lo so se Beh non so Perché è difficile È un cesso È solo che Ha un viso molto cinematografico E spazza Ma totale Ma guarda che Cioè per fare cinema Secondo me non è che Devi essere bello Devi avere un viso interessante Che può non essere bello Poi c'è chi è interessante E vuole bello Mi volevo Chapeau Però è di pochi Cami parliamo di Outlander Possiamo parlarne Possiamo parlarne Io ho una domanda su Harry Potter Da un quarto d'ora Ma vai vai di Outlander No devo rispondere Alla mia community Dicendo che Outlander è Senza dubbio La mia serie preferita Senza meriti Oggettivamente Outlander Credo pura spazzatura Ma per me È la miglior serie Mai creata Perché ovviamente Viene dalla saga di libri Di Outlander È una storia d'amore Incredibile Gli attori sono Incredibili Però Ne comprendo i grossi limiti Essendo ambientato in scotte Vuoi che ti dici Ma ti piccio Outlander Vai 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 Allora Outlander Di che cosa parla Di che cosa parla Outlander Outlander è questa serie Inizia Diciamo negli anni 60 Dove tu vedi Questo professore Di Harvard Di storia Con questa sua compagna Ok Loro innamorati Eccetera eccetera A un certo punto Decidono di andare a fare Un viaggio in Scozia Lui considera un istante di storia Quindi è quello che proprio Le sbomba le coglioni Dicendo qua c'è stata La battaglia di Waterloo Quelli si sono scontati Con lei Che A un certo punto Vanno a visitare Queste rovine antiche Lei arriva in queste rovine E comincia a sentire Delle strane vibrazioni Degli strani suoni A un certo punto Si accascia su una pietra E viene Scompare E viene teletrasportata Nel tempo Indietro di 300 anni Quindi finisce nel 1700 Nello stesso punto Ma nel 1700 Ovviamente Non c'era la città Dove lei Stava risiedendo In quel momento Viene catturata Dagli scozzesi Perché ovviamente Trovano questa qua Mezza nuda Perché c'aveva Un vestidio Di come cazzo sei Una strega Ovviamente E lei E dall'inizio Tutta la storia De Outlander Perché ovviamente Lei si innamorerà Di uno Dei suoi carcerieri Con cui poi Lei si sposerà Quindi c'è questa bellissima Storia d'amore Dove lei però Vive questa 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 sofferenza Perché lei era sposata Con uno negli anni 60 Ma si innamora Di questo E lei si sposa Nel 1700 Quindi lei ha due fedi Una Nella vita che ha vissuto E una Lei li ama Tutti E scusami C'è questo particolare Pazzesco Che ti devo dire Che il Villain Del 1700 È un Predecessore Del suo marito Degli anni 60 Quindi sono uguali Hanno la stessa faccia No vabbè E succedono delle cose assurde Non è un po' tirata No non è tirata È spettacolare Quindi ti garba anche Bridgerton Tipo Allora Qua dobbiamo aprire Un'altra grande parentesi Cioè Io ho un altro kink Per il trash Quindi per esempio Mi vuoi chiedere Fare qualche domanda Su After Io so tutto Però è pura spazzatura Cioè È il mio guilty pleasure Nel senso Non so come dirvelo Lo guardo perché Devo vederlo Bridgerton Dio madonna Cioè No Bridgerton è proprio brutto Perché non è abbastanza brutto Da fare il giro Ah ok Cos'è una cosa che Il fabbricante di lacrime Per me è stato il prodotto Peggiore Dopo ti dobbiamo rivelare Una curiosità In privato Sul fabbricante di lacrime Mi sa No fabbricante Con tutto il bene Veramente Non è niente Contro nessuno Però è veramente Cioè Una scena Del film Dove lui a un certo punto La guarda E gli dice Non toccarmi Con questa casualità Bellissimo Dialogo Sì Poi che cosa ci manca No ci manca Tutta la lore Dei giochi Eh certo La cosa principale Che abbiamo introdotto È quel tema Topic Che però Mi nasce anche tardiva Mi nasce anche tardiva Perché in realtà È da poco prima Della pandemia Ok In realtà Non Però da lì Si è sviluppata Proprio Una passione Lì è nata Lì poi io e Claudio Ci siamo anche tanto Stretti di amicizia E da lì è partita L'ossessione Perché vabbè Io poi ho questo tratto Un po' ossessivo Per cui Se ad un certo punto Mi piace una cosa Faccio solo quella Continuamente Fino a che poi Ovviamente mi stanco Perché come tutto E poi mi fa sboccare Non è ancora arrivato Quel momento Per i giochi da tavolo Ma probabilmente arriverà Non c'è una passione Che ti è rimasta Da sempre Che non ti ha mai Annoiato Quella per i pomodori Vabbè ma Da mangiare Ok Perché sono stati Perché sono e sono stati Un'ossessione Nel senso Mi mangio veramente Una grande quantità E quella è l'unica cosa Che non mi ha mai stancato Basta Stranissimo Tutto il resto Comunque alla fine Mi ha Ok E cosa Cosa hai giocato Cos'è che ti ha Quali sono quelli Che ti sono rimasti Più nel cuore Però anche se ti dico Tu non li conosci Qualcosa conosco Di nome Non l'ho giocati però Ok Allora ti posso dire Diciamo Come macro categorie Forse tra un German E un American Io forse sono un po' più American Perché Io Per quel discorso Che facevamo prima Che gioco per giocare A me la strategia Fina a se stessa Quei giochi dove ti fai Una sega da solo Solo per arrivare primo E alla fine non hai Un vero gioco con gli altri Perché sei solo lì Concentrato A vedere Qual è la strategia migliore A fare i calcoli numerici Per arrivare primo Un po' quelli mi annoiano Ok Diciamo che forse La soluzione migliore Sono i libridi Quindi che hanno Diciamo Tutta una parte strategica Ma hanno anche un'alea Che può essere i dadi Le carte O che cazzo che è Ce ne sono tanti Anche di giochi Vado a periodi Per esempio Una delle ultime sessioni È stato Everdell E quindi sì Everdell Poi Quello del treno Magari Come si chiama No Ticket to ride Eh Ti piace? No Allora io non sono grande fan Dei party game In generale Ticket to ride Non è un party game Però è confinante Diciamo È un gioco Non considerato party game Molto molto leggero È carino Piacevole Secondo me È il classico gioco Da passaggio Cioè fai un gioco peso Un ticket to ride Un gioco peso Ok Quindi è Quindi Un gioco di passaggio Non sarà mai Un mio gioco preferito Ma serve Tutto serve Nella vita È un contorno Ci sono i primi piatti Ci sono i secondi piatti Ci sono i contorni Esatto Eticket to ride È un contorno Fammi pensare C'è stato il periodo Seven Wonders Che mi piaceva molto Beh beh Ci sono tutti i giochi Tipo le case della follia Che sono a campagne Quelli dove comunque Un pochettino Ti puoi Buildare il tuo personaggio Poi Con tutti i limiti del caso Però ti prendi le tue armi Nella battaglia dopo Ce li hai E secondo me Quelli sono carini Perché ti costruiscono Una storia Ovviamente sono un po' più complessi Da giocare Perché devi giocarci più o meno Sempre con le stesse persone Sennò un po' ti perdi la storia Ok Madonna Deve essere un bel impegno Tra l'altro portavanti Sono un po' impegnativi Però sono figli Però c'è uno adesso Che ho finito a campagna Che c'ho un vuoto colossale Sul nome È una scatola grossa Che si apre a metà Come tutte le scatole E dentro Ha proprio tutti i componenti Che devi costruire Le torri Sempre con i dadi Che ci sono i dadi arancioni I dadi blu Descent Vi ringrazio Descent Tutta la prima campagna Adesso è uscito Descent 2 Che è una roba così Madonna Ma sono anche costosi Ho visto Sono costosi Sono molto impegnativi Anche Sì 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 Infatti Quelli sono giochi Che prendi Se proprio ti piace Se no Se sei Comunque ti vuoi approcciare Ti presentano Descent Quindi spari in bocca Ovviamente c'è Arkham Horror Arkham Horror È diciamo Il papà Questo tipo di giochi Però Arkham Horror È veramente respingente Per chi non gioca Perché è proprio un gioco Che ha delle regole Complessissime Ti considera che io Cioè per culo Sono entrata in contatto Con quello che ha fatto Ha tradotto le regole in italiano Ok E quindi qualsiasi dubbio C'è Chiamavo lui Perché le regole sono Madonna Però non tutti possono avere Questo contatto No e infatti Però sai tipo Ci sono i forum Dove rinnovano Continuamente i regolamenti Perché poi ci sono I giocatori matti Che trovano il cavillo E quindi Non bisogna inserire la regola Però mi hai detto Che sei nella tua parentesi Anime Allora sì Sì Sono nella mia animera Però devo essere onesta Con il mio pubblico Devo dirvi che Io Per quel discorso Che giustamente Abbiamo fatto all'inizio Per cui non sono mai stata Una bambina da cartoni Non sono neanche mai stata Un'adulta da cartoni E neanche da film animazione Ma non c'è problema Non c'è problema E non sono mai stata Neanche una persona da fumetti Io leggo libri Libri senza immagini Non mi sono mai appassionata Al fumetto Bello che hai dovuto specificare Che cosa sono i libri Sono quelle cose Ma senza immagini È come Spotify Ma con le pagine Ok E quindi Ho vissuto Questa grossa lacuna Recentemente Come una grande mancanza Da colmare E quindi ho contattato Tutti i miei amici Appassionati Di anime Di manga Perché fai No perché Sono curioso Che amici Contattati E cosa ti hanno consigliato Ho la mia lista Adesso se vuoi te la snacciolo Volentierissimo Ho chiesto Mi devi dare una lista Di titoli Variegati Quindi di tipologie diverse Non so se si possano definire Generi Non lo so Comunque cose diverse Che mi devono dare Una panoramica Sugli anime Alcuni film Altri serie In modo tale Che io possa capire Se c'è almeno Un prodotto Che mi può interessare Top Allora La mia lista È la seguente Ti dico prima Quelli che ho già visto Vai Il primo anime Della mia vita È stato Paprika Dio buono Top Mi è piaciuto molto Grazie al cazzo Paprika mi è piaciuto molto Tra l'altro Ci ho visto tanto Del piccolo Nemo Forse per quello Che mi è piaciuto Ma lo sai Non ci ho mai pensato Io subito ci ho pensato Connor è un genio Quindi magari come influencer McKay ci sta Poi ci ho visto tanto Inception Ma forse Inception Che ha preso la paprika Sì sì Ci ha preso delle sequenze Proprio copiate Sì sì Quello mi è piaciuto molto Poco per bambini in realtà Zero È un film per adulti Certo Quello mi è piaciuto Poi ho iniziato Attack on Titan Ok Sto faticando Secondo me Quando arriverai Alla scena Della funivia E soprattutto Col Titano bolle Forse può cambiare Guardate Se voi vi dico Dove sono arrivata Perché sono Veramente all'inizio Sono arrivata Quando loro Finiscono l'accademia E vengono Smissati Nelle tre varie categorie Quelli che difendono fuori Quelli che stanno al centro E la sorella Che è un genio Può scegliere E il fratello Che è un coglione Gli dice Io voglio andare all'ora Lei dice Vabbè Seguiamo sto deficiente Di mio fratello Questo è il punto A cui sono arrivata Ok Sei all'inizio praticamente Sì 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 Sarà il sesso episodio Sto un po' faticando Però Non mollo Se fatichi ora Mi immagino dopo Perché dopo diventa Una specie di Fantapolitico Ok Vabbè Però Tutti me ne hanno parlato bene Io voglio dargli una chance No è bellissimo È bellissimo Certo Fai bene Fai bene Poi Ho iniziato Death Parade Ah ok Death Parade mi sta piacendo Ci sta sì Carino Non è Si può dire antologico Forse no Perché in realtà Un po' le puntate Si riprendono Un pochettino Però è carino Ho capito che i giapponesi Sono molto fissati Con sta roba dei demoni Dell'anima Sono molto superstiziosi E questa lore mi ritorna Ho visto Your Name Allora anzi scusami Mi corrego Your Name è stato il primo Che ho visto Ancora prima di Paprika Ed è quello Che mi ha traumatizzato Un mio amico Dicendo che per lui Era il capolavero Io mi sono sparato in bocca Devo essere onesta Su questo Attenzione Ne ho capito Lui mi ha detto Your Name secondo me È l'anime Che più si avvicina a un film Io ti ripro Ambasciatore non porta pena Sì ma è proprio Una cazzata questa Ora va bene i gusti Però cosa vuol dire Your Name è un film Poi è un film d'animazione Però dice che c'erano Molte inquadrature Molti dettagli Disegni erano molti Ma non ha senso Non ha senso Perché un piano sequenza Si può fare In animazione Come lo puoi fare Con i carrelli sul set Ma che vuol dire Che cazzo ne so Ma oh È amico eliminato Quello che si avvicina A un film Ma che frase è Quindi io ho visto quello No più che altro Lui mi aveva detto Non lo devi tanto guardare Per l'animazione Per i disegni Le illustrazioni Ma È l'unico cosa Per cui mi ha guardato Your Name No lui mi ha detto Per la storia La storia Io ho guardato Sta storia Ho detto ma L'hai vista cento volte Ma io vengo da Outlander Ma a me i viaggi Nel tempo Non lo porti niente Quello Your Name Outlander Gli ramazza la stanza Questo è quello che io penso Dazzo non l'ho mai visto Però l'abbiamo visto In tantissimi altri Questi che si qua Hanno la linea temporale Dai viaccia beve Dai fratello Viaccia beve Si dice a Perugia E quindi Your Name Trauma Inizato Death Parade C'è amica di Luca Molinaro In arte mangaka 96 No Perfetto Pensavo fosse stato lui A consigliare No 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 È un mio amico No no Poi adesso ho scaricato Hai scaricato Legalmente No certo Certo No no È vero però Li ho scaricati Nel senso che Li ho scaricati Per poter rivedere offline Offline Certo Certo Allora Quindi ho downloadato Chiamiamo le cose Con il loro nome Perfect Blue Brava Perfect Blue Sulla scia di paprika Ho detto Se mi è piaciuto quello Mantengo la mia Ho una persona che Ha la logica Nella testa Per fortuna Poi Cowboy Beepop Si Ok Su quello Secondo me Avrò delle difficoltà Perché Che dici Perché lo trovo C'è Non voglio le cose riderine Noi siamo No 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 Si non hai capito Ok Riderine A un certo punto Ti viene voglia Di spararti No perché Non voglio robe Tipo Team Rocket Noi salveremo Quella roba Assolutamente no Anzi Ok Poi Berserk Anime La trilogia di film Ok Quella puoi fare Così Selezioni Uno due tre E poi Il cestino Si si Ok No quella Quello lì Se riesci a leggerlo È meglio Però No la lettura No Quello non è una cosa Che mi sento pronta Ad affrontare Allora lascia perdere È proprio brutto Scoprire Berserk Così secondo me Ok E allora lo lasciamo in fondo Secondo me Non ho visto Giusto 5 o 6 Però Te lo dico Secondo me non ha Poi Ghost in the Shell Bravo Quello è Vabbè 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 Ah sì Uno che mi han detto Però Ah scusate Altri due Uno che mi han detto Di lasciarlo per ultimo Perché sarà difficilissimo Ed è made in Epis No perché No Perché hanno detto Che è un'animazione Molto puppet Per bambini Ai personaggi Sono molto super deformed Però È Bella sacagnata Sì Bello tosto Bello profondo In tutti i sensi Tra l'altro Perché tutto si basa Su questo buco megagalattico Che è lì Non si sa bene perché Ci sono delle persone Dei coraggiosi Che scendono in questo buco Sempre di più Per capire Che cosa cazzo è Questo buco Il problema è che Più scendi Più ha dei malori Più ci sono dei mostri Terrificanti E nel risalire su Hai questa pressione Che in un certo senso Di decomprime il corpo È tutto basato Su questa roba qua È molto molto figo Potrebbe essere carino E poi sto tenendo Per ultimi Tutti quelli Tipo La città incantata Mia Mia Zacchi si chiama Sì Ok Tutti i suoi li sto lasciando Per ultima Perché Non so se è il mio E quindi voglio aspettare Perché Mi ci devo approcciare con calma È che non so cos'è il tuo Da quel punto di vista lì Cioè Non so nemmeno Magari mi piaceranno Però siccome mi hanno detto Che sono molto lenti Molto concetto Molto Chi cazzo Chi cazzo le ha detto Che sono lenti Io veramente guarda Però Bro l'ha detto Anche il minutaggio C'è la Il castello erante di Hall Dura tre ore Ma che dici No Due ore Due ore E per i bambini No no Cazzo sul serio Che cazzo vuol dire È una storia complicatissima Un bimbo ci capisce Una sega Nemmeno in cento vite No Allora Così mi hanno detto Scusate Cioè complicatissima no Però non è una storia per bimbi Si parla di guerra Di ribellione nei confronti dello stato La città incantata però è per bambini No Non è Stavo per dire È per tutti Per tutti infatti Quindi per bambini nella tua testa No A me mi hanno detto È un È proprio Che te la devi Io Nomi e cognomi Non sono della nostra community Che palla Però questa diciamo È la mia prima lista Ok comunque Allora Posso darti un consiglio io Eh Mannaggia la puttana Eh Allora Sì Va bene Se ti vuoi lasciare per ultimo Miyazaki Fatti un film di Miyazaki Che mette d'accordo tutti Cioè secondo me Castellernanti da uno Spacca i culi Perché è misterioso Fighissimo Una musica su a sud Poi è un film in costume È È un film steampunk Sai un po' steampunk Però non con lo steampunk Dove partono con i jetpack Ok Molto posato È bello Un po' sontuoso Beh adesso che sono nella mia era Fallout Forse potrebbe essere il momento Però Certo niente Dai allora Devi vendermelo però In qualche modo Ma Devi vederli Secondo me Eh Se no ti guardi Porco rosso Che è divertentissimo E No ti ho detto che non voglio ridere Ma non è divertente in quel senso Certo che ti hai veramente È difficilissimo Prendere lo spazio Tu e per descrivo mi dici È divertentissimo È divertente perché è appassionante È divertente C'è sempre col sorriso stampato sulla bocca Ma non perché c'è la scurreggia di De Sica Perché Perché è bello Eh vabbè Allora Io invece li guardo con grande Serietà Non mi vedi mai ridere Non voglio questo sorriso E allora Allora si alza il vento Ah che è un altro Sì Di Miyazaki Se alza il vento è Evangelion raga A quanto ho capito È un mondo complesso Forse è troppo grande per me No basta guarda Dalla serie ai film Finali Sì ma la serie Io ho visto alcune serie Hanno tipo 47 episodi Non è lungo Evangelion così Ma quant'è una serie Perché poi vi succede 300 come One Piece Ma ha detto Leggi Non è più lungo Però è un manga lunghi Sono 24 episodi 26 con Cioè tutto Evangelion Sono 24 episodi Non mi la state raccontando Il film Il film Sì sì giuro 24 episodi è un film Coeso No no Io di questo Evangelion Sapevo cose diverse Sapevo che ce n'erano Almeno tre No quelli sono i Rebirth Dai retta a me Ascolta a me Tanto Voi mi state ingannando Voi non siete più La mia compagnia Io Mi sono enciclopedico Ecco Evangelion c'è la serie Più i film Tre Poi ci sono i Rebirth Ma i Rebirth Non ci pensavo Sono film Lascia stare Qui comunque abbiamo Tre film e tutta la serie No 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 Un film Cioè la serie e il film Facciamo così Lasciamo stare E le altre cose che citate ragazzi Episodi E poi c'è The End of Evangelion Che è la fine Molto cervellotica Quello dicevo Che dovevo dare Il giusto tempo Perché Certe cose vanno approcciate Col dovuto rispetto Evangelion secondo me Era uno di quelli Che va approcciato Con calma Brava Allora se mi dici Dario mi consigli il primo anime Io non ti consiglierei Mai Evangelion Ecco Capito Invece secondo me I film che ti hanno consigliato Possono essere Un buon ponte Forse questo intendeva il tuo amico Cerco di difendere Anche se non lo conosco Cioè che Your Name Ma mettiamo paprika È un buon ponte Tra il cinema live action E l'animazione Comunque A discorso Vi devo dire Che chi mi ha consigliato Your Name È un'altra persona Rispetto a quello della lista Che ti ho detto adesso Eh immaginavo Impossibile Che la stessa persona Esatto Che ti ha consigliato Your Name E ti abbia consigliato paprika Cioè uno è un pazzo da internare L'altro è un grande Comunque Rispetto E tutto Però insomma Questo è Va bene Poi basta C'è altro che hai Scaricato legalmente No No per ora questi Per ora Aspetta Eh no non c'ho il cellulare No però a memoria questi sono Perché poi devo comunque finire Fallout E la mia giornata Fallout Serio 4 Videogioco Ah videogioco Ok Sì 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 Ah stai facendo il 4 Ok Sì sì sto facendo il 4 E come tutte le cose Cioè tutti i giochi non abbiamo parlato Al volo a parte Spyro e Crash Al volo Ma perché in realtà Ah no perché tu mi dicevi Che War Legacy Ti ha fatto cacare E io in realtà Non è che sia una grande giocatrice Della Playstation eh Devo essere onesta Cioè Veramente poca roba Quindi Cioè vado più a Mi ha infottato Fallout Perché ho visto la serie tv Ho detto Gioca tutto il gioco Stop Cioè non Non sono un'appassionata Cioè giochi quello che ti va In quel momento Eh ci state Con però una certa Ossessione Quindi adesso poi Cioè ti c'è questi grandi periodi brucianti E poi E poi finito Freddo Ok Sì 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 Purtroppo Ne sto parlando con la psicologa Perché è proprio Ma non credo sia un problema Dai stilpare Sì Perché Ah perché dici che non si estende Solo alle passate Ah ok Allora sì forse sì Se si è capito Eh purtroppo un pattern Però ognuno c'ha le sue Zelda niente per esempio Zelda sì pure Zelda sì Però la La Switch Fatico di più Sarà che è piccola Cioè Poi mi chiuso Io considero fatto il tour Giocavo solo a Zelda Tutto il tempo Facevo le prove Finivo il teatro Mi chiudevo con questa Switch Non paravo più con nessuno Quello è proprio Il significato della Switch È quello Eh però Non si può vivere così Devo Devo centellinare Perché sennò è finita Se no non leggo neanche più un libro Cioè a un certo punto Vorrei anche leggere Cioè non ho il tempo Di fare tutto E anche oggi Avevamo la possibilità Di fare un'ora A parlare di letteratura E l'abbiamo schivata Sapientemente parlando Di tutt'altro ragazzi Completamente Cami io ti ringrazio Per questa ora È stata piacevolissima No io ringrazio te Per essere stato ospite Nel mio canale Ah già è vero Scusa Mi hai dimenticato Torna quando vuoi Noi siamo qua Volentieri La rubrica Dario Moccia Cioè L'angolo di Dario Moccia Adesso dico la mia Adesso dico la mia E alla prossima volta E ci vediamo Non so quando Quando uscirà Cami Quando vorrà Ciao Ciao Ciao